Io ho espresso un'opinione dissensiente, contraria, motivata. La Purchia è stata responsabile di una frattura molto profonda e difficilmente sanabile con la gran parte dei lavoratori. Purchia ha assunto delle posizioni all'epoca della legge brai gravi e anche di contrapposizione nei confronti di stanze legittime fondate delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche quello che è accaduto in questi mesi con un San Carlo ripiegato abbastanza su se stesso, su certi temi, poco entusiasmo all'interno del teatro, tutto lasciava presagire con la fine del commissariamento che fosse necessaria una svolta, un cambiamento. E anche grazie alla manifestazione di interesse che io avevo fortemente voluto e che a fatica il Consiglio di Indirizzo ha consentito, sono stati ben 43 curricula che sono stati presentati e ieri sono stati liquidati dalla maggioranza del Consiglio di Indirizzo in circa due ore per poi arrivare alla fine a una decisione che era stata evidentemente già presa, quello che avevano già manifestato di voler confermare Rosanna Purchia, sovrintendente del San Carlo. Adesso sta al Ministro decidere, io ho messo a verbale i motivi del dissenso, c'erano tra l'altro curricula molto più forti, la manifestazione dell'interesse a che serve? Serve a scegliere attraverso un percorso meritocratico le candidature più autorevoli, i progetti più significativi, non hanno nemmeno voluto ascoltare quelli che erano i portatori di curricula più forti, sostanzialmente ieri si è ratificata una decisione che era stata già presa. Pagina negativa, pagina brutta, la cultura va liberata, va liberata da giochi altri rispetto alla cultura, quindi l'impegno sarà sempre più forte all'interno del San Carlo come sindaco e presidente del Consiglio di Indirizzo, così come nel mercadante, così come nelle altre strutture. La cultura deve essere liberata da chi pensa di fare altro e non solo armonia, bellezza, cultura, musica, ballo, sinfonia e altro.